Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Bologna chiusura i mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezza del tratto tra il vivio con la variante di valico Baccheraia e Aglio. In FIPILI in direzione Livorno possibili disagi per cantieri tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino e in direzione opposta tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. Ricordiamo che sono in corso in FIPILI i lavori di riqualificazione tra Montelupo ed Empoli Est. In questa fase dei lavori fino al 30 maggio è previsto il doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Firenze con la completa chiusura della carreggiata in direzione mare. Lo svincolo di Montelupo resta chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Firenze. Per il trasporto pubblico ricordiamo che prosegue anche a maggio la sperimentazione nell'ambito metropolitano fiorentino dell'utilizzo del titolo di viaggio denominato Unico Metropolitano. Buon viaggio! Grazie per la visione!